Amici di Patrimonio Italiano TV, siamo a New York City, siamo in collegamento con la voce di New York e con il suo direttore fondatore Stefano Vaccara. Buonasera Stefano. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di Patrimonio TV. Non solo ascoltatori, anche in televisione come si chiamano. Voi siete televisione, radio, internet, tutto messo insieme. Sì, diciamo un network di italianità all'estero e di italianità si parla proprio in questi giorni relativamente alla voce di New York che ovviamente essendo il riferimento italiano negli Stati Uniti, in questi giorni c'è un lavoro febbrile caro Stefano perché esattamente dopo domani, il 25 aprile, come si vede alle tue spalle in questo bellissimo background si terrà un evento alla sua seconda edizione Liberty Meets Beauty. Ce ne vuoi parlare un po'? Siamo curiosi, anche se noi già l'anno scorso abbiamo fatto una capatina virtuale da quelle parti però ecco, averti ospite qui in presa diretta insomma è un gran vantaggio. Di che cosa si tratta esattamente? Allora, prima di tutto l'onore è mio di partecipare alla tua trasmissione, una bellissima trasmissione che ho seguito e tra l'altro che ho visto che tu intervisti personaggi italiani e italiane che vivono all'estero che hanno tutte storie molto originali, molto belle e che tu riesci tra l'altro a tirar fuori in maniera… perché ho notato per esempio che hai intervistato pure due mie valorosissime giornaliste e ti hai fatto dire cose che neanche io sapevo certe cose, quindi sei bravissimo e ti ringrazio ancora la tua trasmissione. Per quanto riguarda Liberty Meets Beauty è il nostro brand, è il nostro slogan che è però molto più di uno slogan, è molto importante. libertà incontra bellezza, dove Meets incontra, attenzione, è forse la parola più importante, cioè libertà, ovviamente sono Stati Uniti, l'America, l'America rappresenta la grande libertà, soprattutto per un giornalista, e bellezza, la bellezza rappresenta l'Italia, l'Italia ma attenzione non soltanto una bellezza estetica, che quella non ci batte nessuno, ma noi puntiamo alla bellezza etica, soprattutto di questi tempi dove magari sembra perduta. E però Meets, quell'incontro, ecco è proprio la nostra filosofia, l'incontro che c'è tra l'America e l'Italia, l'Italia che incontra l'America e in questo oceano in mezzo, che poi per noi è il mondo, come fai tu che ti rivolgi al mondo, noi lavoriamo per questo incontro, per questi valori che si incontrano nel mondo e non solo con gli italiani, cioè gli italiani che sono sparsi nel mondo, ma con tutti quelli che amano questi valori e che amano quindi il valore italiano della bellezza. E lo facciamo il 25 aprile, non solo perché è la festa della libertà, della liberazione della libertà, perché noi siamo nati proprio il 25 aprile, il primo articolo uscì nel 2013, in quelle date siamo usciti col sito la prima volta il 25 aprile, è per noi un onore, quest'anno siamo all'Istituto Italiano di Cultura, al Park Avenue, ci saranno tantissime persone, è una bellissima festa, abbiamo bellissimi sponsor, io direi oltre che belli, buonissimi, perché si mangerà benissimo, se ne dico soltanto che qua a New York li conoscono tutti, ci sarà per esempio la pizzeria Ribalta, la migliore di tutte, poi c'è questo ristorante siciliano Norma che è spettacolare, poi abbiamo i panzerotti, perché c'è un nuovo panzerotto, come si chiamano, i panzerottai, non sono neanche qui, io ho assaggiato, è appena aperto a un vari street a Manhattan, I love panzerotti, e poi abbiamo Nutella Caffè, la Nutella che ci porta i dolci, i dolci fatti a base di Nutella, più lo sfumante, bastiani, c'è più tantissimi vini siciliani, insomma abbiamo una festa, guarda che anche poi ci sarà una bravissima pianista, che farà un rosa, che farà tra l'altro un bellissimo pezzo di piazzolla, libertango, e ci divertiremo. Bene, intanto le premesse ovviamente ci sono tutte, guarda, tra l'altro noi festeggiamo praticamente domani, il 24 di aprile, facciamo un anno, quindi diciamo che come date, insomma, chissà che non sia un buon segno, questo mese di aprile, foriero di fortuna, sicuramente di italianità all'estero. Stefano, io stavo un po' scorrendo le pagine di questa realtà spettacolare, che è la voce di New York, che è veramente la voce dei tanti italiani, non solo a New York, ma un po' in tutta l'America. E ovviamente l'articolo principale appunto di questi giorni, di cui proprio adesso ci stiamo occupando, è proprio questo, relativo all'evento del 25, che vede ovviamente in primissimo piano la vincitrice del Liberty Meets Beauty Media Award, Gaia Pianigiani, appunto una giornalista senese. Ce la vuoi descrivere un attimo? Ecco, perché ha vinto questo premio? Liberty Meets Beauty, che è nato l'anno scorso, avevo tenuto, sono contento che mi hai fatto la domanda, perché gli volevo dare una sottolineatura particolare. Noi facciamo un giornale che è protetto dal primo ammendamento della Costituzione degli Stati Uniti, la libertà di stampa per noi è proprio un valore sacro, e l'anno scorso abbiamo creato questo premio, Liberty Meets Beauty appunto. L'anno scorso l'ha vinto Olivia Nuzzi, giornalista etola americana, allora conosciuta da chi, diciamo degli addetti ai lavori, era già corrispondente del New York Magazine dalla Casa Bianca, molto giovane, giornalista, bravissima, noi ci siamo accorti della sua bravura, l'abbiamo premiata, pochi mesi dopo il nostro premio Trump l'ha chiamata nello studio Vale per un'intervista esclusiva dove cercava di convincerle, lei non si è fatta convincere che quello che lei stava scrivendo non fosse la verità, ma infatti era la verità, poi non vi racconto, comunque lei ha fatto un'intervista spettacolare e è diventata famosissima, ovviamente adesso la conoscono tutti. Per quanto riguarda la premiata di quest'anno, Gaia Pianigiani, lei è una reporter del New York Times, ma è italianissima, e io su questo voglio sottolineare perché io da tanti anni che sono in America e il New York Times, che insomma non c'è bisogno di presentazioni, è un giornale uno dei più importanti del mondo, io non ricordo di giornalisti italiani, attenzione italiani, che facevano da reporter, corrispondenti dall'Italia, raccontavano l'Italia per il New York Times, e lei bravissima, ha studiato anche alla Columbia University, è senese, di Castellina e Inchianti, manata a Siena, io conosco bene quella parte della Toscana perché ho studiato a Siena, mi sono laureato a Siena, tra l'altro ecco a te lo dico ai tuoi ascoltatori, perché è giusto, perché è un bezzo che io ho, io mia figlia l'ho chiamata Siena, io ho una figlia che si chiama Siena. Esatto, ti seguo, ti seguo molto, quindi lo so, e infatti magari prossimamente… Gaia, però a Gaia non abbiamo dato il premio perché di Siena, anche se questo sicuramente ci fa molto piacere, abbiamo dato il premio a Gaia Pianeggiani perché ha dimostrato nei suoi servizi, nelle sue inchieste, ma un modo di lavorare veramente come dovrebbe essere il giornalismo preciso, ha fatto per esempio un'inchiesta con altri colleghi del New York Times su quando è caduto il ponte di Genova, che è veramente spettacolare, ma poi si è occupata di mafia, si è occupata di immigrazione, è una giornalista a tutto tondo come dovrebbe essere fatto questo mestiere, ha la fortuna di farlo ovviamente in un grande giornale come il New York Times, però è tutto meritato perché ha una preparazione fatta per questo lavoro. e non potevi essere più chiaro, intanto io scorrevo proprio le pagine del New York Times con quel reportage appunto da Genova. Quindi ecco, noi siamo scaramantici, però ecco, la voce di New York lo abbiamo detto, insomma, porta bene, chissà che anche quest'anno, insomma, possa essere così, ma naturalmente il pedigree di Gaia… Scusami Mike, volevo leggere una cosa su questa serata che abbiamo… C'è una cosa particolare che è importante, quest'anno per la prima volta insieme alla Italy American Chamber of Commerce, che è un'istituzione importantissima qui a New York, è una camera di commercio secolare, esiste alla fine dell'Ottocento, e noi abbiamo fatto un bellissimo giallaggio a cordo dove presenteremo vetrina, che è questa, un inserto speciale che ci sarà nel nostro giornale e che sarà proprio una vetrina italiana, dell'eccellenza italiana, dove tutte le aziende che vogliono presentarsi a New York, che sono già a New York o che vorrebbero avere una vetrina speciale su New York, troveranno noi, insieme alla Italy Chamber of Commerce, ecco, come faremo… abbiamo un'intesa dove faremo in modo che queste aziende italiane, di eccellenza italiana, siano presentate e percepite, quando, ecco, ancora una volta, beauty, no? Liberty meets beauty, il nostro valore assoluto, che vale non solo sul, quindi, sul giornalismo e di libertà di giornalismo, ma anche sull'impresa italiana, che per noi è… forse noi siamo… no? Quando si tratta di politica, si tratta di queste cose qui, siamo pronti a criticare in Italia le cose? Beh, non solo in Italia, se pensiamo all'America, comunque, siamo dei criticoni, come il nostro mestiere, però quando parliamo di aziende italiane, del prodotto italiano, dell'eccellenza italiana, io vi dico che qua in America, New York, il prodotto italiano è veramente, non solo ricercato, ma è considerato… cioè non c'è… come dice, la Ferrari nell'automobile, ormai siamo in tutto, perché nel cibo, nella moda, nei gioielli, lappertutto il prodotto italiano è considerato un'eccellenza. E allora Stefano, io ricordo l'appuntamento, quindi, del 25 aprile, poi ovviamente faremo un collegamento post-evento per raccontarlo un po' con immagini, con foto e quant'altro, nel frattempo noi diamo la notizia per, appunto, dopo domani, quindi 25 aprile, dal consolato italiano a New York ci sarà… Dal consolato all'Istituto Italiano di Cultura, che comunque è accanto e ha conto al consolato e c'è la bandiera italiana che insieme a quella dell'Unione Europea sventola con orgoglio fuori dalla plazzina e noi saremo lì a festeggiare. Il 25 aprile che è una festa sicuramente da festeggiare soprattutto in America e infatti ci ha avvertito… io ti sto parlando dalla sede dell'OMU, dal Palazzo di Vetro, e abbiamo appena saputo pochi giorni fa che anche la missione americana qui alle Nazioni Unite parteciperà alla festa, perché è ovvio, no? Il 25 aprile per gli Stati Uniti non ha importanza quale amministrazione ci sia a Washington. È un giorno importante perché ricordiamocelo che gli americani creati portarono la libertà in Italia. Esatto, esatto, esatto. Infatti è un giorno da festeggiare sempre e comunque, comunque la si pensi e diciamola così, evitiamo qualunque tipo di polemica, soprattutto in questi giorni che in Italia il clima è molto caldo e sappiamo bene per quale motivo. Stefano, io nel ringraziarti ovviamente di questo intervento e di essere stato con noi… anche se sono io che ringrazio te, tu sei un patrimonio degli italiani all'estero, ecco, tu sei diventato patrimonio degli italiani all'estero. E detto da te, guarda, è un onore, veramente è un onore. Spero di incontrarti presto dal vivo, magari a New York o magari perché no qui in Italia, insomma, sicuramente ci vedremo nel corso di quest'anno. Grazie ancora, a presto. Grazie mille, a Stefano Vaccara, amici di Patrimonio Italiano TV, direttore della Voce di New York. Grazie Stefano. Arrivederci.